Che cosa accade se ridisegno Mercoledì Adams troppe volte? Beh, scopriamolo. Eccola qui, con il suo sguardo tenebroso e le sue lombra carnose. Ma ridisegniamolo una seconda volta. Il secondo disegno già ha un sacco di differenze, perché ci sono un sacco di tratti e linee nere, soprattutto qui con i capelli. Quindi cosa accade se lo ridisegno? Ancora! E ancora! E ancora, e ancora, e ancora, e ancora, e ancora! Quindi, vediamo cosa è uscito fuori. Vai!